Dio, what's up guys? Io sono DLJ Ed è la mascherina che se ne scende E oggi siamo su Ok ragazzi Sarà una cosa Trescissima Però ho deciso di farlo Ditemi il genio Che ho avuto questa fantasia Che io lo vado e gli do Le medaglie Perfetto, ragazzi io devo superare Conte, cosa molto difficile Al giorno d'oggi Ciao Conte Buongiorno, le distanze Dove stanno? Qualcuno vorrebbe preparare La festa di laurea Mandiamo i carabinieri Ma li mandiamo con il lanciafiamme La versione più avanzata di Super Mario Ragazzi, è pixelosa Tantissimo, anche Trash Scusa veramente Questa è una foto di Conte Ma perché non se la mette Cioè non usano foto E' la regione più penalizzata di Super Mario E' la regione più penalizzata d'Italia Cioè la regione che viene depredata ogni anno di 350 milioni di euro Lo Stato italiano dovrebbe vergognarsi E' la regione più penalizzata di Super Mario E' la regione più penalizzata d'Italia Cioè la regione che viene depredata ogni anno di 350 milioni di euro Lo Stato italiano dovrebbe vergognarsi Ma questo è bullismo Madonna zio che pancia Ho capito che è la quarantena Però non ti eccitare troppo Ma perché perdo sempre Perché perdo sempre l'IVA Dai No vabbè ragazzi Fatemi ricominciare perché Devo battere il mio record Assolutamente Cosa si va a inventare la gente Io non ne ho idea No vabbè ragazzi Ma perché No ma io non ce la posso fare Ma che cavolo dai Ma ragazzi veramente c'è un Deluca Che va per le città a fare ste robe E ci sono dei Giuseppe Conti Che rimbalzano sulla strada Ok ragazzi siamo arrivati alla parte della faccia Quella Lì perdo Ma perché perdo Madonna Quanto sei brutto Facciolo dire Ok ora concentrazione Oddio Ma chi siete Porca vecchio No 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 La mascherina La mano Aiuto Tutti mi grattano Ciao Conte Quando noi pensavamo alla sanità L'italia che sentivo era Ma preoccupiamoci anche dell'economia Ma si faccia l'ultima partita Perché sta durando veramente troppo Poi certo che il sud Sia più infelice Ok ora stiamo andando a parte Dove perdiamo sempre Per l'amor di dio Non perdiamo Per favore I principali contenuti Del nuovo decreto legge Ok Abbiamo superato Regà Abbiamo fattuto il record Chi è lui? No Vittorio Sgarbi Ma che cavolo Perché c'è Vittorio Sgarbi Non ci sono le capri Non c'è un sub-stimulator Le regole E le vuole arrivare Gli strumenti No vabbè Regà fin qui non ci è arrivato Ve lo giuro Concentrazione Regà concentrazione In Italia Non controlla più niente Nessuno Siamo al crollo